Per tutti a prescindere, come diritto alla vita un reddito, a tutti! Poi se vuoi lavorare, non vuoi lavorare, chi se ne frega! Abbiamo adottato il decreto legge che contiene misure sul reddito di cittadinanza di quota 100. È la numero uno, come quel decino di Zio Paperone. Io considero il reddito di cittadinanza una sorta di diritto umano. I nomadi, i migrati, i nulla facenti cronici, i parcheggiatori abusivi, i venditori abusivi, tutta gente che prenderà il reddito di cittadinanza. 2980 Navigator. I Navigator. È una paghetta offensiva. Morirete radical chic, avendo dimenticato totalmente che cosa significa la sofferenza di chi non ha un lavoro. Noi abbiamo detto che lo possiamo modificare, sarebbe meglio cancellarlo. Se è tutto bloccato, non funziona. Il reddito di cittadinanza è la cosa peggiore, perché li educano a fare una mazza. Nella relazione della Corte dei Conti e del Rendiconto Generale dello Stato 2019, si dice che solo il 2% dei percettori di reddito di cittadinanza avrebbe trovato un posto di lavoro. E che nessuno ci venisse a dire per fare un altro governo che dobbiamo dire sì al MES, che dobbiamo cancellare la prescrizione, che dobbiamo togliere le risorse al reddito di cittadinanza. Di nuovo.